I vigili del fuoco di Pesaro sono intervenuti questa mattina intorno alle 7.45 per un incendio in un campannone che opera nel settore di incisione e stampe in zona Fornace Vecchia all'altezza del casello autostradale. Dopo numerose chiamate alla sala operativa del 115, la squadra è prontamente intervenuta sul posto con quattro automezzi, tra cui un'autoscala e un'autobotte. Grazie al tempestivo intervento degli uomini del comando di Pesaro, l'incendio è stato circoscritto in poche ore, evitando così il peggio e la propagazione delle fiamme all'intera fabbrica. Nell'incendio non si registrano persone coinvolte.